Oggi lo strumento del progetto personalizzato è divenuto il principale strumento di intervento in tutti gli ambiti di area cosiddetta sociosanitaria. A partire certamente da un'esperienza anche storica nel campo della salute mentale è divenuto un dispositivo utile al raggiungimento di obiettivi di salute per le persone in carico ai servizi di salute mentale o in contatto con questi. Parte certamente dall'assunto di nuovi paradigmi che attengono molto all'evoluzione dei sistemi di welfare nei quali i servizi sociosanitari e anche ovviamente i servizi di salute mentale sono immersi. Nuovi paradigmi che attengono la necessità di partecipazione e protagonismo delle persone che a questi si rivolgono. Facilitare quindi percorsi di questo tipo necessita naturalmente di stili operativi e di culture di servizio che tengano in considerazione ampia e forte la necessità di investire su sistemi di tipo comunitari. Di lavoro quindi non soltanto rispetto ai bisogni di salute che le persone portano ma di lavoro stretto con le comunità di riferimento e con il contesto più ampio che rappresenta necessariamente l'alleanza possibile di percorsi di reale e concreta inclusione sociale e sociolavorativa per le persone in contatto. Si aggiunge il paradigma insomma assunto dei determinanti socio-economici ambientali di salute e il peso che questi hanno in termini di efficacia dell'intervento stesso nonché appunto le necessità di partecipazione quanto più allargata agli attori delle reti sociali formali e informali dei territori. Personalizzare gli interventi significa certamente costruire appunto opportunità e possibilità di inclusione. non sono possibilità e opportunità di inclusione appunto laboratori protetti strutture comunitarie esterne o fuori dalle reti comunitarie non attraversate dalle reti comunitarie non sono, non è personalizzazione degli interventi chiedere come dire alla persona di scegliere il menù della giornata se preferisco mangiare una cosa piuttosto che un'altra provare a personalizzare gli interventi significa appunto ribadire la voce in capitolo che le persone hanno nell'assumere delle decisioni e quindi significa produrre dei contesti capaci di facilitare questo tipo di modalità anche di comunicazione, di scambio, di dialogo tra le parti. Il progetto personalizzato lavora appunto su quelli che possono essere considerati alcuni dei più importanti insomma determinanti sociali di salute, quelle che sono le aree di funzionamento di ciascuno di noi e in particolar modo l'area della casa, dell'abitare in maniera più compiuta, della qualità quindi di vivere evidentemente una casa, uno spazio abitativo, l'area della formazione e dell'inserimento lavorativo e infine l'area della socialità. Tutti questi assi dell'intervento vanno considerati in maniera complessiva, vanno tenuti quantomeno in considerazione devono poi prevedere insieme alla persona e al suo contesto di riferimento, insieme alle famiglie delle persone in contatto appunto in questo caso con i servizi di salute mentale dei percorsi possibili e quanto più possibile vicini ad aspirazioni, ad aspettative nel percorso stesso di vita della persona. Gli attori che vengono coinvolti nel momento in cui si va a costruire, ad immaginare, a progettare un percorso personalizzato, devono essere tutti i riferimenti che la persona in qualche modo in prima istanza porta come persone vicine all'interno del proprio contesto familiare, laddove questo c'è persone di riferimento della persona nel proprio percorso di vita, quindi nella propria biografia nella propria storia, nella propria esperienza dal punto di vista delle reti collaborative formali tutti gli attori legati alle aree dei servizi sociali, certamente legate a percorsi e competenze diverse gli uffici regionali che si occupano di inserimento lavorativo, piuttosto che i servizi di inserimento lavorativo piuttosto quelle che possono essere figure come quelle degli amministratori di sostegno che supportano le persone in un percorso appunto di riacquisizione di competenze e abilità tutti quei soggetti provenienti dal terzo settore che possono rappresentare effettiva possibilità e opportunità di inclusione sociale nella costruzione delle loro attività e nella costruzione dei loro interventi una rete quindi che può essere molto ampia che deve appunto tenere conto in considerazione quelle che sono effettivamente le esperienze ma anche poi le aspettative che la persona porta la costruzione di un progetto personalizzato necessita di un'attenzione, di un tempo dedicato nell'ascolto evidentemente dei vissuti e delle esperienze, delle biografie, delle narrazioni che le persone solitamente portano necessita di dell'individuazione dall'altra parte e la conoscenza del territorio di riferimento della persona necessita come dire una competenza anche di tipo professionale se vogliamo di aiuto e di supporto che sappia costruire ponti rispetto a possibilità di inserimento e di inclusione sociale necessita insomma di uno sguardo che potremmo definire strabico da una parte certamente la persona con la sua dimensione di vita nel più ampio senso possibile e dall'altra parte assolutamente la conoscenza, informazione su quelle che sono le occasioni possibili con le quali poi costruire alleanze e soggetti con i quali poi costruire rapporti di collaborazione nell'ambito appunto di percorsi realmente inclusivi Il budget di salute è una metodologia di intervento e una pratica al contempo che attiene alla ricerca di nuove tecnologie di governance e di regolazione del rapporto tra il soggetto pubblico in questo caso le aziende sanitarie con i loro dipartimenti di salute mentale e i soggetti del terzo settore un nuovo modello regolativo che permette la valorizzazione dell'apporto di soggetti altri nella rete comunitaria investe sulla costruzione, sullo sviluppo delle competenze appunto di associazioni di volontariato piuttosto che cooperative sociali tenta di supportare il raggiungimento degli obiettivi individuati dal progetto personalizzato in una cornice evidentemente collaborativa fatta quindi di competenze complementari è fatta di attività di coprogettazione e cogestione degli interventi si è iniziato a introdurre lo strumento del budget di salute in una logica anche di riconversione delle risorse tradizionalmente investite in strutture residenziali piuttosto che in comunità riorientamento dei risorsi che continuano tutt'oggi a diverso grado nei diversi territori delle regioni con esperienze più o meno avanzate il budget di salute come metodologia attiene a queste diverse dimensioni e attiene anche una piccola grande rivoluzione di tipo amministrativo che come dire in coerenza con quanto previsto nel progetto personalizzato tenta di riconvertire quelle importanti risorse sociosanitarie appunto investite nell'area sociosanitaria per riconvertirle e farle diventare risorsa delle persone e delle comunità in cui queste persone vivono